Ho sofferto di un violento mal di testa, che a torto ragione attribuisco alle emozioni di quella serata e anche allo sforzo d'attenzione e di adattamento che ho dovuto compiere. Per tutta la mattinata, peraltro, sono stato inquieto a causa di Nadia e rimproveravo di non aver preso un appuntamento con lei per oggi. Sono scontento di me, mi sembra che lo osservo troppo. Come fare altrimenti? Come mi vede? Come mi giudica? È imperdonabile che continui a vederla se non l'amo. Non l'amo. Standole vicino, sono più vicino alle cose che sono vicine a lei. Nello stato in cui si trova, mi accadrà certamente di avere bisogno, in qualche modo, di me, da un momento all'altro. Qualsiasi cosa mi chieda, rifiutarglielo sarebbe odioso. Tanto è pura, libera da qualsiasi legame terrestre. Tanto poco tiene, ma in maniera meravigliosa, alla vita. Lei tremava, forse di freddo. Aveva vestiti così leggeri. Sembrava anche imperdonabile da parte mia non rassicurarla sul genere di interesse che ho per lei. Non persuaderla che non la posso considerare un semplice oggetto di curiosità, ma come potrebbe crederlo? O di capriccio? Che fare? Risolvermi ad attendere fino a domani sera è impossibile. Che fare intanto se non la vedo? E se non la vedessi più? Non saprai più. Avrai dunque meritato di non sapere. E tutto questo non si ritroverebbe mai più. Possono esserci di queste false annunciazioni, grazie di un giorno, veri e propri precipizi dell'anima. L'abisso nel quale si è tornato a gettare l'uccello splendidamente triste della divinazione. Che posso fare se non recarmi verso le sei al bar nel quale ci siamo già incontrati? Nessuna probabilità di ritrovarcela, naturalmente. A meno che non è forse in questo che risiede la grande possibilità di intervento di Nadia. Molto al di là del caso. Esco verso le tre con mia moglie, un'amica. In taxi continuiamo a parlare di lei. Come abbiamo fatto a colazione. Tutto un tratto, mentre non presto alcuna attenzione ai passanti. Non so quale macchia, apparsa in un baleno sul marciapiede di sinistra all'imbocco della rue Saint-Georges, mi spinge quasi meccanicamente a bussare contro il vetro. È come se fosse passata Nadia. Corro a caso in una delle tre direzioni che ha potuto prendere. È lei, infatti, e si è fermata là a parlare con un uomo che, mi sembra, l'accompagnava poco fa. Lo lascia quasi subito per venirmi incontro. Al caffè la conversazione è stentata. Sono due giorni consecutivi che la incontro. È chiaro che è alla mia mercè. Con tutto questo si mostra molto reticente. La sua situazione materiale è disperata. Infatti, per avere la possibilità di riprendersi, dovrebbe non conoscermi. Mi fa palpare il suo vestito per mostrarmi come robusto, ma questo è detrimento di qualsiasi altra qualità. Non è più possibile fare altri debiti e si trova bersagliata dalle minacce del padrone del suo albergo e dalle sue spaventose proposte. Non fa alcun mistero del sistema a cui ricorrerebbe se io non esistessi per procurarsi del denaro, benché non abbia più nemmeno la somma necessaria per farsi fare i capelli e andare al clerige dove fa talmente. Che vuoi, mi dice ridendo. Il denaro mi ha evità. Una sola volta mi sono trovata con in mano 25.000 franchi che mi aveva lasciato il mio amico. Mi avevano assicurato che in pochi giorni mi sarebbe stato facile triplicare la somma, solo che comprassi della cocaina all'aia. Mi hanno consegnato altri 35.000 franchi destinati allo stesso uso. Tutto era andato liscio. Due giorni dopo portavo con me circa due chili di droga nella borsa. Il viaggio procedeva nelle migliori condizioni, ma scendendo dal treno sento come una voce che mi dice «Non passerai». Sono appena scesa sul marciapiede che un signore, a me completamente sconosciuto, mi viene incontro. «Mi scusi, è con mademoiselle D che ho l'onore di parlare?» «Sì, ma mi scusi, non so. Non ha importanza. È con il mio tesserino e mi porta al posto di polizia». «Là mi domandano che cosa ho nella borsa. Io lo dico, naturalmente la apro. Ecco, mi hanno rilasciata il giorno stesso per l'intervento di un mio amico, avvocato giudice di nome G. Non mi hanno chiesto niente altro. E io stessa, tanto ero agitata, ho dimenticato di segnalare che non era tutto nella borsa, che bisognava cercare anche sotto il nastro del mio cappello, ma quello che avrebbero trovato non ne valeva certo la pena. Ho tenuto per me. Ti giuro che da molto tempo tutto è finito. Tiene stretta nella mano una lettera che poi mi mostra. «Ed un uomo ha incontrato una domenica all'uscita del teatro François. Probabilmente dice un impiegato, perché ci ha messo molti giorni a scrivermi. Si è deciso all'inizio del mese. In quel momento potrebbe telefonargli a lui o a qualcun altro, ma non si decide. È anche troppo chiaro che il denaro la evita. Che somma le occorrerebbe immediatamente? 500 franchi. Non avendoli con me, mi ero offerto di darglieli l'indomani, e subito si era dissipata in lei ogni inquietudine. Apprezzo ancora una volta questo adorabile miscuglio di leggerezza e di fervore. Con rispetto bacio i suoi bellissimi denti, e lei allora lentamente, gravemente, la seconda volta su un tono un po' più alto che la prima, la comunione avviene in silenzio. Quel bacio mi spiega e lascia l'impressione di qualche cosa di sacro, in cui i suoi denti tenevano il posto dell'ostia.